Consideriamo dei sistemi eterogenei, quindi costituiti da almeno due fasi, liquido-liquido, solido-liquido come in questo caso. Questi possono essere separati per stratificazione, la chiamiamo anche decantazione. Questo è possibile grazie alla accelerazione di gravità, quindi il campo gravitazionale determina la decantazione a causa della differente densità, quindi la proprietà delle due differenti fasi che ne consente la separazione e la densità. Hanno differente densità, quella densità maggiore si deposita sul fondo sotto l'azione dell'accelerazione di gravità. Qui vediamo la costituzione, quando è stato aggiunto il secondo componente, la fase solida, granulare, e qui si vede nell'atto della decantazione. Si usa anche il verbo decantare per questa situazione. Quando una delle due fasi è solida, viene anche chiamata sedimentazione. Qui vediamo delle grandi, enormi vasche di sedimentazione per il trattamento di acque reflue, ma analoghe sono anche quelle per il trattamento di acque potabili, dove l'acqua di fiume viene lasciata scorrere un determinato tempo in queste vasche e nel mentre scorre sotto l'azione dell'accelerazione di gravità le particelle solite presenti sedimentano raccogliendosi sul fondo. Quindi parliamo di sedimentazione, solido-liquido, parliamo di decantazione. In generale, in questo caso per esempio, è il liquido-liquido, il miscuglio eterogeneo, liquido-liquido. Ora, tutto questo per introdurci alla centrifugazione, dove l'accelerazione di gravità viene sostituita dall'accelerazione centrifuga. Noi utilizziamo dei dispositivi per applicare la forza centrifuga, che hanno un rotore, il campione viene messo in provette, e qui vedete una varietà di tipi di centrifughe. Nella provetta viene messo il miscuglio eterogeneo da separare in base alla differente densità e con la rotazione del rotore viene applicata una forza centrifuga che è crescente, non è costante e fissa come l'accelerazione di gravità, ma noi possiamo applicare una velocità molto elevata e quindi una forza centrifuga molto elevata. Questo avrà come effetto la rapidità della separazione. La fase a densità maggiore raggiungerà il fondo della provetta in un tempo molto minore. usando provette speciali con dei filtri nel mezzo si può ottenere la filtrazione, quindi una velocizzazione della filtrazione, basandosi sul fatto che la parte solita in quel caso verrebbe è trattenuta dal filtro come residuo, ma questa è un'eccezione che ci conviene comunque tenere da parte. In conclusione, la centrifugazione è una saltazione della decantazione, l'accelerazione di gravità viene sostituita dall'accelerazione centrifuga, utilizzata per separare miscogli eterogenei a densità differente. La fase liquida a densità minore viene detta sornatante. Grazie.